buongiorno e benvenuti a tutti ad un'altra storia della call for craft oggi abbiamo il piacere di avere bernardo mannelli con noi ciao bernardo ciao enzo nato tu sei un esperto e direi quasi un guru degli strumenti degli strumenti digitali dal tuo ultimo libro e sul tuo sito ovunque vai ad aiutare le persone a trovare ea applicare soprattutto proprio perché sono tantissimi i migliori strumenti digitali per le loro attività nel percorso della call for craft tu accompagnerai appunto i 12 artigiani che saranno selezionati in questo percorso alla scoperta dei migliori strumenti che che viaggio gli farai fare in nei tuoi webinar eh beh è un viaggio è un viaggio che che in realtà che ha bisogno di un prima nel senso che è un mezzo di trasporto che ha bisogno di un altro mezzo di trasporto prima il mezzo di trasporto prima è la strategia perché gli strumenti digitali in realtà sono un'attività prettamente tattica no quindi facciamo tanta strategia c'è tanta ed è giusto farla poi però bisogna anche un po' metterla a terra e chi meglio di un settore come quello artigiano in senso lato ha bisogno di questa concretezza no gli strumenti digitali servono proprio a questo a mettere in pratica la strategia a risparmiare tempo a risparmiare risorse risparmiare budget aumentando la produttività aumentando l'efficacia del proprio business quindi aumentando il fatturato poi alla fine ok quindi mh siccome saranno situazioni eterogenee quale qual è secondo te il il modo migliore poi di approcciare giustamente nell'ambito strategico di ogni persona come ci hai già detto ma anche poi i tools che verranno proposti all'interno del del percorso ma direi sostanzialmente su tre fasi la prima è una fase generale di panoramiche di approccio cioè quindi eh c'è una grande offerta come si scelgono come si opera una scelta dove si vanno a cercare dove si vanno a trovare quali parametri guardare per una scelta consapevole il secondo sono quei software che non possono mancare nella cassetta degli attrezzi eh di un artigiano digitale e quindi quelli comuni diciamo così a tutti e poi magari faremo qualche focus un pochino più in profondità sulle esigenze di ognuno perché anche quelle sono importanti perfetto quindi sostanzialmente il lavoro sarà sia teorico che molto pratico perché poi i tools vanno vanno utilizzati quindi loro incominceranno a applicare i nostri imprenditori il tutto il il modus che tu gli spiegherai di acquisizione dello strumento applicazione dello strumento e validazione poi di quelle che sono le loro attività perché poi lo strumento essenzialmente ti dà la possibilità di essere molto più efficace come c'è giustamente detto tu e di andare a risparmiare tempo e denaro questa è la priorità assoluta e poi di cui abbiamo bisogno tutti in realtà. Certamente Enzo e e oltretutto con casi pratici con test con prove con eh gli strumenti per essere utilizzati non hanno bisogno soltanto di una teoria di panoramica iniziale di approccio. C'è bisogno anche di un po' di ingredienti, un po' di curiosità, un po' di analisi delle necessità, dei fabbisogni e poi un po' di pratica anche ma i risultati si vedono eh te lo garantisco. Non ho alcun dubbio assolutamente su questo. Bene Bernardo che dire io non vedo l'ora che inizi questo percorso formativo perché lo sai ti seguo e ci ho provato a fregarti con un tool ma lo conoscevi già e quindi assolutamente la tua conoscenza è vastissima e spazia in tutto quello che è utile e pratico questo secondo me è il grande eh il grande valore che porti alle persone con cui collabori. quindi. Non vedo l'ora non vedo l'ora nemmeno io di iniziare dai di buttarmi in questo viaggio perché secondo me questa realtà imprenditoriale è una realtà vivace eh forte che rischia che ha un po' il rischio di impresa nel DNA no? E che quindi non si può fare altro che appunto buttarla a terra anche sugli strumenti digitali e su questo mondo digitale che è che è bellissimo diciamocelo. Assolutamente. Grazie Bernardo è stato un piacere come sempre. Grazie a te. Ciao.